Salve gente, sono Tiziano Bro e benvenuti in un nuovo commentario su Mela Cauto Army, sempre se il video venga accettato. Comunque sia io, sono Tiziano Bro e sono abbastanza nuovo su YouTube, quindi penso che nessuno di voi mi conosca. Sono un YouTuber emergente e faccio principalmente video su Counter Strike, ultimamente Global Offensive, perché è l'ultimo capitolo che ho uscito, quindi giustamente vi faccio su quello. Comunque sia, io sono qua su Mela Cauto Army quest'oggi per portarvi una mod di Call of Duty 4, Modern Warfare, che emula la modalità zombie di Black Ops. Questo qua rende il gioco molto molto simpatico, perché ci saranno molte caratteristiche in più in confronto alla modalità zombie di Black Ops. Per esempio che non si è costretti a giocare soltanto con 4 persone, ma si può giocare anche in 10, quindi la cosa è resa molto molto più divertente, perché avendo più persone con cui giocare si rende molto più divertente. La vita non si autorigenera, ovvero noi in basso a sinistra dello schermo, potete vedere c'è una barra, che ogni volta che verremo colpiti la barra si svuoterà un pochino. L'unico modo per recuperarla è curandosi, cioè l'unico modo per curarsi è farsi curare dal medico, altrimenti non ci si può curare. Ci sono le classi, le classi sono molto simpatiche perché sono a scelta, per esempio ci sta il medico, lo scout, l'ingegnere, l'armored, il soldato. Ci sono tutte queste classi che sono differenti tra loro e ognuno di loro ha le proprie abilità, per esempio il medico cura più velocemente, rianima più velocemente, può lasciare un'area verde dove se i compagni ci passano sopra si curano con il passare del tempo più velocemente della norma. Poi ci sta ovviamente l'ingegnere che costruisce delle minigun che fanno ferme, posizionate e girano il cannone e praticamente sparano gli zombie a vista. Molto simpatico, poi ci sta ovviamente le altre classi che vi lascio scoprire a voi se avrete la possibilità di giocare a queste mod del genere. Sono molto belle che potete trovare, basta che andate sulla lista dei server e vi andate a cercare il server con queste modalità, oppure andate a cercare qualche sito internet con l'IP dei server, per esempio andando là vi copiate l'IP e poi andate a giocare su questi server che sono molto simpatici. Poi le mappe sono molto carine, ci sono alcune che sono state fatte apposto per questa modalità, sono state create appositamente, mentre altre sono semplicemente delle mappe che erano già in Call of Duty, l'hanno modificato, hanno aggiunto delle cose eccetera eccetera. E ovviamente come nella modalità zombie di Black Ops si possono, come si dice, riparare i muri che vengono rotti dagli zombie, ci stanno baricate. Ci stanno oltre due particolari che da print sono delle casse, cioè una cassa in ogni mappa, dove voi potrete ricaricare le vostre munizioni al costo di 25 punti. I punti si prendono uccidendo i zombie ovviamente, più i zombie si uccidono, più combo si fanno e più si acquisiscono punti. C'è anche un altro distributore che ha la funzione di, per un tot di soldi, di potenziare la vostra arma, cioè non è che potenzia proprio come il pack a punch che lo fa diventare la stessa arma, però più figa, con più munizioni, più potente. No, sostituisce la vostra arma con un'arma più forte, per esempio il medico, la sua arma base è lo scorpion, e lo scorpion fa schifo. Ovviamente potenziandolo si prenderà l'RPD, per esempio, quello successivo, poi così andando avanti l'M60, eccetera, eccetera. Ovviamente rimetterà l'elettrici leggeri contro un orde di zombie, mi sembra la scelta migliore. Comunque sia, è davvero un'ottima modalità, io mi sono divertito tanto. Un'altra particolarità è quella che prende il gioco, legge questa modalità come una modalità come un'altra, quindi se voi curate qualcuno, fate, non lo so, uccidete tanti zombie, eccetera, eccetera, ovviamente si arriveranno le kill, come potete vedere anche dal video, e le conterà come cose normali, come se voi aveste ucciso 500 zombie, avete ucciso 500 persone online, e quindi mi siete fatti punti e quindi salirete di livello. Infatti io mi sono fatto circa 3-4 livelli soltanto così, ho sbloccato alcune cose. È davvero molto simpatico, io vi invito a provarla se ne avete la possibilità di giocare Call of Duty su PC, perché su console non sono sicuro che ci sia, non vorrei dire bagionate, però non ne sono proprio sicuro. Comunque sia, il video finisce qua, lo so, era un po' cortino, ma non c'è molto da dire, e principalmente sta a voi giocare il gioco, cioè io vi posso dare qualche cosa, però... Insomma, non vi posso spoilerare tutto. Comunque sia, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che la mod vi sia piaciuta, andatela a provare se ne avete la possibilità. Io sono Diziano Bro, venitemi a visitare sul canale, e grazie a Clean Test Food se il video verrà accettato. Ciao a tutti!